A Los Angeles i lampioni della luce avranno presto le orecchie. Sui pali dell'illuminazione pubblica verranno infatti installati dei microfoni in grado di riconoscere i suoni prodotti durante un incidente stradale e avvertire all'istante le forze dell'ordine. Un modo per rendere più tempestivi i soccorsi, ma anche per monitorare costantemente i livelli di inquinamento acustico. Grazie